Posso? Sì, sì, vai. Non si apre. Che rapinatrice che sei. Hai visto? Non ci credo, raga, è la cosa. Siccome ho gusti molto difficili, diciamo, è complicato per me trovare una persona che caratterialmente incontri tutti i punti. Aspetta, ok, devi ridere un attimo. Tipo nel momento in cui stavo provando a chiamare e mi stavano rispondendo se è arrivata. Non sono una persona spavalda e ci metto parecchio tempo a far sì che qualcuno mi piaccia davvero, quindi non vado mai dritta al punto. Sono rimasta tipo così, a guardare lo specchio e a ridere. Perché non sapevo che cosa voglio fare. Ti lascio telefonare, così non ascolto quello che dici su di me. Aspetta. Me ne turno di là a bere il mio vinello. Aspetta, no, amo, tranquillo. Chi ti preoccupare? Non lo so.